Weee! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, porca miseria, siamo arrivati di già alla settimana numero 4 di questa season 8 e ovviamente dobbiamo cercare di capire dov'è il nuovo STANDARDO SEGRETO! Eccola qua ragazzi, intanto alle mie spalle la schermata di caricamento che vi verrà regalata se completerete tutte le sfide della settimana! Avete visto dov'è nascosto lo STANDARDO? Ancora no! Vi zoomo una parte ragazzi, eccolo! Eccolo là ragazzi! Come vedete vicino, vi faccio vedere meglio, vicino a quella specie di pilastro con la fiammella alla base è proprio disegnato il nostro STANDARDO! E allora ragazzi andiamo direttamente in mappa, ovviamente era chiaro che fosse sul vulcano dall'immagine tanta roba anche l'immagine delle bananazze, vi faccio vedere qual è la location esatta in modo anche da ottenerlo e poterlo utilizzare, perché no, nel Battle Royale! So già qual è lo STANDARDO ma non ve lo voglio spoilerare, è molto divertente, molto divertente! Eccoci qua ragazzi alle sponde del vulcano e la location che a noi interessa è esattamente qua! Come vedete c'è proprio lo stesso identico pilastro e lo STANDARDO segreto appalerà proprio in questo punto! Beh ragazzi io voglio ringraziarvi per aver guardato questo video, mi raccomando un bel like, codice creator xuderone, noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao!